Se c'è una cosa che ha reso grande l'Italia è la creatività, ma non la mia in cucina. Quella delle realtà locali e delle loro eccellenze che sono il risultato di talento, conoscenza del territorio e dell'insuperabile passione italiana. Queste realtà sono diventate dell'esperienza Airbnb che ho provato insieme a voi. Come ti devo chiamare Nettuno, capitano, direttore? No, chiamami Nicola. Va bene Nicola, ti seguo, andiamo. Buongiorno, benvenuti! Giornata movimentata in quel di Ancona, anzi nottata, sì perché il mercato ittico ci ha mostrato qual è la vera vita notturna. Per una città di mare come Ancona è stata sempre fondamentale la pesca. La filiera parte dal peschereccio e arriva fino al consumatore finale. Grazie a Nicola e a Biperbanca che al suo fianco ogni giorno abbiamo tutti imparato una quantità smisurata di nomi di pesci. Allora questo che cos'è? Una canocchia, un nasello, un nastro per capelli, o quasi. Abbiamo assistito a trattative spietate, delicate e tanta frenesia. E abbiamo vissuto un'esperienza davvero local. Perché paese che vai, esperienza che trovi.